Taglia il traguardo delle 25 edizioni il premio Rotondi di Sasso Corvaro. Il 10 giugno, nella rocca ubaldinesca, il Comune onorerà i salvatori dell'arte locali, nazionali e internazionali, ripercorrendo l'opera di Pasquale Rotondi, alla cui memoria venne istituito il premio nel 1997. Una rassegna presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord, partner del premio, che in questa edizione sarà assegnato a Iorn Kozan e ai salvatori dell'arte ucraina, a Francesco Lotoro che in tanti anni ha recuperato strumenti e musica elaborati dai musicisti internati nei lager nazisti, e poi ancora saranno premiate le azioni di recupero dell'arte di Jacopo Dabolli, Mario Scaglia, Marika Mercalli, Paolo Conti, Floriano Biagi e Franco Signoretti. Il sasso che abbiamo lanciato nello stagno dell'opinione pubblica tanti anni fa, oggi arriva con le sue onde, addirittura quest'anno, pochi mesi fa, arriva alle scuderie del Quirinale, dopo aver fatto tante altre tappe prestigiose. Quindi è un venticinquesimo che festeggiamo con questa cornice splendida della mostra del Quirinale e lo festeggiamo con salvatori dell'arte di straordinaria portata. Il 10 giugno alle 16 a Sasso Corvaro ci sarà la cerimonia di premiazione di questa venticinquesima edizione, momento che sarà il clou di una rassegna che anche quest'anno si declina fra Sasso Corvaro, Carpegna e Urbino e si amplia negli eventi collaterali dei quattro giorni della Montefeltro Art Week. Una settimana che prevede un viaggio nel Montefeltro alla scoperta dei luoghi dove sono state salvate le opere d'arte, ma un viaggio che parla di storia, che parla di cultura e che parla di arte. Nel nostro programma abbiamo cercato di inserire che cosa? Mostre, mostre di arte contemporanea, dare spazio anche ad artisti locali, ma soprattutto avvicinare il premio alle scuole. Questa è la cosa più importante. Quindi da quest'anno, come potete vedere, già da giovedì 8 avremo la mattina il premio Pasquale Rotondi Junior, un premio interamente dedicato alle scuole. Eventi che il giovedì sera proseguiranno a Palazzo Ducale di Urbino con lo spettacolo teatrale di Cinzia Spanò, Palma, Bucarelli e l'altra Resistenza. Il venerdì Sasso Corvaro inaugurerà la mostra diffusa Metallo Poliedrico di Andrea Rossi e il Palazzo dei Principi di Carpegna ospiterà il premiato Francesco Lotoro, l'uomo che torna dar voce alla musica nei lager. Sabato, il pomeriggio dedicato alla premiazione, sarà preceduto dal taglio del nastro in mattinata della presentazione del murales di Cicos Art dedicato ai 25 anni del premio. Domenica, la Montefeltro Art Week sarà chiusa dallo spettacolo teatrale Il Sogno di Agnese, della compagnia del gruppo Atena. Ogni anno dobbiamo lottare con i tagli che ci sono stati sui contributi al premio e quindi siamo sempre ad organizzare più eventi con meno risorse e quindi qualcuno può dire ma com'è possibile questa cosa? È possibile perché per fortuna abbiamo aziende sul territorio che credono sulla cultura, che credono nella cultura come volano di rinascita per i nostri territori. E quest'anno ho detto che inizierò il premio proprio ringraziando questi sponsor perché è grazie a loro che il premio ha 25 anni di storia. Partner e sponsor fra cui spica Confcommercio e i suoi itinerari della bellezza. Pasquale Rotondi ha fatto un'opera straordinaria salvando veramente l'arte italiana portando a Sasso Corvaro nella Rocco Baldinesca e a Carpegna nel Palazzo dei Principe molte delle opere d'arte italiane, da Tiziano, Raffaele, insomma l'elenco sarebbe lunghissimo e quindi bene fece 25 anni fa Salvatore Giannella a ideare questo premio e bene sta facendo oggi il comune di Sasso Corvaro a proseguire questa iniziativa che ha un grande valore dal punto di vista storico e culturale ma mi permetto di dire anche un grande valore dal punto di vista turistico.